Gesuita della specola Vaticana Gli alieni sono nostri fratelli 23 novembre 2011. Intervista con il gesuita americano Guy Consolmagno, teologo e astrofisico di fama mondiale, ricercatore scientifico alla specola Vaticana. La prospettiva, che nello spazio ci siano altre forme di vita intelligenti, diventa sempre più una possibile fantastica realtà. In tutto il mondo fervono ricerche scientifiche sull'argomento. I maggiori studiosi della materia, pur ammettendo che ancora non si hanno prove significative, affermano che sono sempre più numerosi gli indizi favorevoli a una simile ipotesi. E anche la Chiesa, che nel corso dei secoli è sempre stata molto prudente sull'argomento, recentemente, attraverso studiosi cattolici di altissimo rilievo, ha espresso opinioni di grande apertura e addirittura di entusiasmo. L'idea, che nello spazio ci siano altre forme di vita intelligente non è assolutamente in contrasto con il pensiero tradizionale cristiano, dice il professor Guy Consolmagno, religioso gesbita, teologo e astrofisico di fama mondiale. Per noi credenti, lo studio dell'universo è una meravigliosa avventura, che ci riempie di stupore di fronte a ciò che Dio ha creato. Non possiamo pensare che Dio sia così limitato da aver creato esseri intelligenti solo sulla Terra. L'universo potrebbe benissimo contenere altri mondi con esseri creati dal suo stesso amore. Guy Consolmagno fa parte dell'equip degli scienziati della specola vaticana, uno degli osservatori astronomici più antichi del mondo. Voluta da Papa Gregorio XIII nella seconda metà del secolo XVI, la specola vaticana, che ora si trova a Castel Gandolfo, ha continuato, lungo il corso dei secoli, a dare il proprio contributo alla ricerca astronomica, con scienziati di primissimo piano. Nel 1981, fu arricchita da un secondo centro di ricerca, il Vaticano Observatory Research Group Vorg, a Tucson, in Arizona, sul Monte Graham, a circa 3000 metri, dove è in funzione un telescopio con specchio da quasi due metri di diametro, che costituisce il prototipo delle ottiche astronomiche di nuova tecnologia. Dal 1978 al 2006, la specola vaticana è stata diretta dal gesbita Padre George Coine, americano di Baltimora, classe 1933, 4 lauree, docente universitario. Ora è diretta dal gesbita argentino Padre José Luis Funes, 48 anni, allievo di Padre Coine, una laurea in teologa e una in astrofisica, molto noto nella comunità scientifica per avere compiuto, quando era ancora giovanissimo, straordinarie ricerche su certo tipo di galassie. Guy Consolmagno è un ricercatore di punta del gruppo degli scienziati della specola vaticana. Nato a Detroit nel 1952, è per un curriculum scientifico eccezionale. Laureatosi giovanissimo al famoso MIT di Boston, una delle più importanti università di ricerca del mondo, ha conseguito poi titoli in varie altre università, diventando uno dei massimi esperti della complessa e vasta scienza planetaria, che comprende numerose specializzazioni. Inoltre, lo studio dell'universo è stato per Consolmagno fonte di grande arricchimento spirituale al punto che, nel 1989, a 37 anni, ha deciso di abbandonare una brillantissima carriera scientifica mondana per diventare religioso gesuita. Ma anche da religioso ha continuato le sue ricerche. Ed è autore di numerosi libri di grande successo, ed è il più autorevole studioso al mondo dei significati scientifici dei meteoriti in rapporto alla vita nello spazio. Lo abbiamo incontrato nella sede della Specola Vaticana, a Castel Gandolfo. Ci ha fatto da guida nei laboratori di ricerca, nella biblioteca dove sono conservati oltre 22.000 volumi, tra cui seconde edizioni originali di Copernico, Keplero e Newton, e, con estrema gentilezza e disponibilità, ha risposto alle nostre domande. La Specola Vaticana è un osservatorio astronomico tra i più prestigiosi. La Chiesa è dunque molto interessata allo studio delle stelle. Lo è da sempre. Basti pensare che l'astronomia era una delle quattro materie, che formavano il Quadridium, cioè il percorso di formazione nelle università medievali, fondate proprio dalla Chiesa. Secondo gli insegnamenti della nostra fede, noi sappiamo che Dio ha creato l'universo per amore, e che ama la sua creazione al punto da aver mandato il suo figlio unigenito a diventarne parte. Sant'Atanasio, nel IV secolo, ha detto che l'incarnazione di Gesù ha reso sacro l'universo intero. Quindi, studiarlo è come pregare. Ed è anche un ottimo modo per conoscere meglio Dio, per comprendere, se così si può dire, il suo stile. Nello studio delle stelle è contemplata anche l'ipotesi della possibile esistenza di altre vite intelligenti in mondi a noi sconosciuti. La Chiesa cosa ne pensa? La Chiesa, in questo campo, si affida alla scienza, alle ricerche scientifiche, ma è anche molto impegnata in queste ricerche. Nel novembre 2009, attraverso la Pontificia Accademia delle Scienze in collaborazione con la Specola Vaticana, la Chiesa ha realizzato in Vaticano, una iniziativa scientifica, che nessuno si aspettava un convegno internazionale di astronomi, biologi, geologi e religiosi, che hanno discusso una serie di temi riguardanti l'esistenza di possibili civiltà intelligenti di origine extraterrestre. Erano scienziati provenienti da tutto il mondo, appartenenti a diverse religioni e alcuni anche atei. Studiosi interessati all'argomento, che hanno voluto confrontarsi tra di loro e soprattutto con il pensiero della Chiesa. Il Cardinale Giovanni Laiolo, portando il saluto del Papa ai convegnisti, ha detto tra l'altro nella ricerca Nessuna verità può farci temere perché le scienze, proprio mentre aprono l'uomo a nuova conoscenza, contribuiscono a realizzare l'uomo come uomo, indicando quale sia la linea di condotta della Chiesa anche su questo tema, e cioè apertura assoluta alla verità. E a quali conclusioni siete giunti? Noi, oggi, sappiamo che l'universo è costituito da miliardi di galassie, ognuna delle quali ha miliardi di stelle, con miliardi di satelliti. È possibile, quindi, che esistano nell'universo numerosissimi pianeti simili alla Terra, dove sia possibile la vita. Un giorno, padre Koine in un'intervista disse l'universo è tanto grande, che sarebbe una follia dire che noi siamo un'eccezione. Lei è uno dei più accreditati esperti dello studio dei meteoriti, cioè pezzetti di corpi celesti, che cadono sulla Terra. Dallo studio di questi reperti è possibile avere indizi riguardanti la vita nello spazio? È possibile. Meteore e meteoriti contengono composti di carbonio e acqua, le sostanze base da cui ha avuto origine la vita sulla Terra. Studiare questi frammenti è entusiasmante proprio perché riguardano un campo di ricerca fantastico anche se ancora tutto incerto. Qui alla Specola Vaticana abbiamo una collezione di meteoriti unica nel suo genere. È una raccolta speciale iniziata più di un secolo fa da un nobile francese, il Marchese di Mauri, donata al Vaticano dalla vedova nel 1935 e poi continuata dagli studiosi della Specola. È formata da oltre mille pezzi di almeno 500 meteoriti diversi. E sono pezzi di incalcolabile valore scientifico. Dallo studio di questi frammenti si possono ricavare informazioni eccezionali, che riguardano la formazione e l'evoluzione del Sistema Solare. Significa avere notizie di un tempo, che si esprime con una formula di questo genere 4, 5 e 10 alla nona potenza. Significa miliardi e miliardi di anni fa. Informazioni che riguardano le condizioni, che esistevano durante e immediatamente dopo la formazione del nostro Sistema Solare, nonché la planetologia degli asteroidi, della Luna e di Marte. E riguardo a possibili vite intelligenti nello spazio? Si può dire che da questo studio si ricavano importanti indizi favorevoli alla possibilità, che vi sia la vita su altri pianeti. Qualche tempo fa in Australia vennero trovati dei meteoriti con tracce di DNA, l'alfabeto della vita. Quella scoperta, secondo alcuni, confermava che probabilmente l'origine della vita veniva dallo spazio. Ho letto, che in quell'occasione lei venne mandato in Australia a studiare quella vicenda. La scoperta fece molto scalpore. Andai a studiare quella vicenda e tornato qui a Roma ripresi gli studi su tutti i vari meteoriti della nostra collezione. È una strada di ricerca estremamente fantastica, ma difficile. Richiede, oltre a conoscere a fondo l'astronomia e l'astrofisica, conoscenze serie della geologia, della mineralogia, della chimica, della metallurgia e perfino della biologia. E richiede, soprattutto, tempo, molto tempo. La Chiesa ci insegna che l'uomo è il figlio di Dio. Se gli alieni esistessero davvero, dovremmo considerarli i nostri fratelli? Siamo tutti creature di Dio. Qualsiasi essere in grado di consapevolezza di sé e dell'esistenza degli altri, e che è libero di scegliere di amare gli altri o di rifiutarli, secondo Sant'Ommaso d'Aquino avrebbe i tratti dell'animo umano, cioè fatto a immagine e somiglianza di Dio. Quindi, se gli extraterrestri avessero queste caratteristiche di intelligenza e di libero arbitrio, non solo sarebbero nostri fratelli ma condividerebbero con noi la stessa immagine e somiglianza. Secondo gli insegnamenti della fede cristiana, Adamo, capo dell'umanità, ad un certo momento ha rotto i rapporti di amicizia con Dio ed è stato cacciato dal Paradiso terrestre, trasmettendo ai suoi discendenti le conseguenze di quel suo peccato. Poi venne Gesù, il figlio di Dio, che si è incarnato e con la sua passione e morte in croce ha riscattato l'umanità riconciliandola di nuovo con Dio. In che modo i possibili extraterrestri potrebbero entrare nell'opera redentrice di Cristo? Per ora non sappiamo niente riguardo la natura e la storia dei possibili abitatori di mondi sconosciuti nello spazio. Una cosa è certa il centro della fede è che Gesù è il figlio di Dio, fatto uomo, e che per mezzo di Lui e in vista di Lui tutto è stato creato. Quindi, ogni realtà creata, ogni realtà intelligente e libera che si trovi nell'universo ha sempre un riferimento fondamentale e radicale con la creazione da parte di Dio e con l'evento di salvezza, che si realizza in Cristo. Articolo di Roberto Allegri